Grazie ad un giro di fatturazioni false, dichiarazioni fiscali fraudolente o messe dichiarazioni e versamenti di IVA, 13 persone sono riuscite a realizzare un'evasione fiscale per circa 3 milioni e mezzo di euro e danni dello Stato. A scoprire questa frode carosello dai connotati trasnazionali, le fiamme giannele del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro, che questa mattina, nella stessa città capoluogo, ma anche a Cosenza, Reggio Calabria, Vibo Valenza, Crotone, Palermo e Cremona, hanno dato esecuzione a 13 misure cautelari personali nei confronti di altrettanti soggetti, tre dei quali di nazionalità ucraina. Per tre di loro sono stati disposti gli arresti domiciliari e il divieto di esercitare attività di impresa per 12 mesi. Per gli altri dieci indagati è stata prevista la misura interditiva del divieto di esercitare l'attività di impresa per 12 mesi. Contestualmente è stato anche eseguito il sequestro preventivo delle disponibilità finanziarie di beni per un valore complessivo di oltre 1.200.000 euro, quale profitto di reati di frode delle due società cartiere utilizzate dall'Associazione Delinquere. Le indagini hanno fatto emergere come interagivano una società a Estone e due società catanzaresi, che fungevano da mere cartiere, senza strutture e che si sottraevano ai debiti erariali, ad una serie di affari nel settore della commercializzazione del pallet. Le due aziende italiane, gestite però da un soggetto di nazionalità ucraina, emettevano fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, utilizzate da 15 acquilenti tra imprese individuali e società nazionali, a 20 sedi in Calabria, Sicilia e Lombardia. Tra il 2016 e il 2021 sarebbe stata realizzata un'evasione per l'IVA di circa 3 milioni di euro e sarebbero state emesse sul mercato quasi 41 mila tonnellate, circa 1.500 container, di prodotto combustibile di alta qualità a prezzi altamente concorrenziali, facendo risparmiare gli acquirenti circa il 16% a tonnellata, con un danno sia per l'erario che per gli imprenditori onesti, che non potevano permettersi di vendere a quel prezzo. Il sequestro odierno non è il primo che ha colpito questo sodalizio, infatti segue quello avvenuto nel marzo del 2021 per 2 milioni e 300 mila euro. Grazie.